Ah, ma è fantastico! Quindi quei fili ti escono dai palmi delle mani? Buonasera! Non è bellissima la luna oggi? Sei davvero giovane! Quante persone hai ucciso nella tua vita? Ne hai mangiate almeno 80, non è vero? Dall'altro lato della montagna ho visto numerosi bozzoli pendere dagli alberi. Solo in quel posto ce ne erano almeno 14. Potrei scavarti gli occhi. O inciderti lo stomaco e strapparti via gli organi. Penso proprio che non riusciremo a diventare amiche. Respirazione dell'insetto, danza della farfalla. Capriccio.